Allora, Battistella, mi chiuso di fare riconoscere, perché si è lavorato a Romè, allora c'è l'altra persona che ha fatto la tesi, Romè ha 108 di media, più 5 e 9, più 3 punti sulla tesi, quindi prende 112, no, gli diamo solo da 12, 110 e 9. Allora, per i poteri conferiti dalla legge, la programma dottore di disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo.